Il terremoto Ed è qualcosa che ci rimanderà all'età della pietra Che Dio ci aiuti Nel 54 Abbiamo risperiato qualcosa Tutti quei test nucleari nel Pacifico Non erano test Cercavano di ucciderlo Voi non avete idea di che sta arrivando Si può uccidere? L'arroganza dell'uomo è pensare che la natura sia sotto il nostro controllo E non il contrario E non il contrario Anche Anche A anche 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 Grazie a tutti.